Isola dei famosi, Eva Enger difende Mercedes. La nota ex attrice di film per adulti, ora in ospedale a seguito delle ferite riportate in un brutto incidente, è intervenuta a sostegno di sua figlia. Negli ultimi giorni Mercedes è diventata una delle principali protagoniste nel reality condotto da Ilari Blasi. La sua storia con Edoardo Tavassi, dopo che si era parlato di un fidanzato fuori dall'isola e gli scontri con gli altri naufraghi hanno occupato la scena. Poi sono arrivate anche da fuori voci sul suo conto. Dopo l'allontanamento da Edoardo e l'avvicinamento al nuovo arrivato Luca da Frelex fidanzato di Mercedes Luca Peracchi ha detto la sua sulla questione, se era davvero innamorata e adesso è presa da un altro la cosa non mi stupisce, perché l'ha fatto anche con me. Mi ha lasciato e dopo un mese era in vacanza a Santorini con un altro ragazzo. E i rapporti con Gwendalina Tavassi non vanno certo meglio, così Eva Enger ha deciso di intervenire per difendere la figlia Mercedes. È stato lo stesso Edoardo Tavassi a notare un certo interesse di Mercedes Enger nei confronti di uno degli ultimi arrivati, Luca da Fre. E di conseguenza per il fratello di Gwendalina Mercedes avrebbe solo finto con lui. Anche il profilo ufficiale dell'Isola dei Famosi ha inquadrato la questione ipotizzando un comportamento non proprio sincero da parte della naufraga. Edoardo nota subito un certo interesse di Mercedes per Luca e i suoi dubbi sembrano trovare conferma. Quella di Mercedes era solo una strategia. A questo punto è intervenuta Eva Enger a difesa di Mercedes.Eva Enger ha commentato il post del profilo Instagram dell'Isola dei Famosi difendendo a spada tratta la figlia Mercedes, che brutto il bullismo. Ora povera Memi non può nemmeno parlare con nessuno. Ma di preciso che male sta facendo di esatto? Domani sarà un problema anche se respira. Certo fino ad ora Mercedes non si è rivelata bisognosa di aiuto, in Honduras appare sempre molto combattiva. Come quando si è scontrata con Nicolas nonostante Edoardo le avesse chiesto espressamente di non farlo. Eva Enger non si è limitata solo a parlare di bullismo sull'Isola dei Famosi nei confronti della figlia Mercedes. Successivamente ha infatti pubblicato una story in cui invitava a votare a favore di Mercedes, vota Mercedes, vota contro il bullismo. In seguito Eva ha modificato la story scrivendo semplicemente, votiamo per salvare la nostra Memi. Storia che è stata ricondivisa dal profilo della figlia con la scritta, ascoltate mamma Eva. Chissà se basterà questo per indirizzare il voto del pubblico.